ma buongiorno buongiorno mix di imitazioni oggi si si spero che vi piaccia allegria amici ascoltatori allora oggi abbiamo grandi ospiti allora eh incominciamo col primo ospite mi raccomando arriva buoni batta batta frigo e benvenuti e benvenuti i baffi i baffi sono sopra di me e mi sono caduti i baffi e come facciamo e allora e allora li rimetta allora benvenuti e non è posto per te ne c'è maria maria gisena e allora io vado via e ti baffi batta mi sono ramiato detto che ti baffi cantano un attimo arrivo eh si arriva straveloci caramba che sorpresa muccio sorpresa muccio com'è bello far l'amore da trieste in giù voi lo fate l'amore ciao è forte eh avete visto quanti gentici e personaggi e cavoli sta così forte eh e spero vi piacciono è forte siete forti anche voi e già mamma mia come sto vedete ero bello bello preso preso mamma mio come sto ammazza io come state voi la fisarmonica adesso suona per voi ma dove sta fisarmonica io non lo so me ne vado via ciao ciao c'è 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 c'é c'è c'è taci 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 oh cio dice come troppo coi piazzo ho preso du schiaffzi ciao ciao andrei vadi vadi buon dizionario allora non è buon dizionario l'ho già sbagliato scusate arrivederci e bom bom abbiamo finito abbiamo finito scusate non tanti troppi non pochi non tanti però spero che vi sia piaciuto io vi saluto vi auguro una buonissima giornata grazie ancora di seguirmi non so più cosa dire cosa dico niente non dico più niente io vi saluto ciao ciao ciao